Castro Reale si chiamò così nel 1324, quando Federico II d'Aragona ordinò la ricostruzione del castello e quindi la chiamò Castro, a cui fu aggiunto l'appellativo di Reale. Prima si chiamava Crezzina, Cristina, Crezzina, Creccina, Grecina, sono queste le varie denominazioni che appaiono nei documenti più antichi prima che la denominazione del paese diventasse Castro Reale. Quando Federico II concesse lo stemma a Castro Reale, diede l'Aquila con in petto uno scudo diviso a croce di Sant'Andrea in quattro parti, cinque pali in quella superiore, nel quarto superiore, un castello nella parte inferiore e due aquilette nei due laterali. Questo è lo stemma di Castro Reale. Su questa via, la Guglielmo Siracusa, c'erano un sacco di chiese. Dall'alto la chiesa del Santissimo Salvatore, poi scendendo la chiesa di Santa Maria degli Angeli, scendendo ancora la chiesa di Santa Maria dei Martiri. Santa Maria degli Angeli e Santa Maria dei Martiri erano due chiese monasteriali, l'una di Clarisse, Santa Maria degli Angeli, mentre Santa Maria dei Martiri era del Suore Benedettine. E scendendo ancora San Filippo Neri, che era sede dell'oratorio dei padri filippini, e quindi scendendo le chiese di Santa Marina e di Sant'Agata, che formano un unico isolato, questo solo su questa strada. Poi qua sotto ci sorgeva e sorge ancora la chiesa dell'Immacolata, circondata dalle impalcature perché devono fare un intervento di restauro al tetto. Il tetto è stato scrollato dal terremoto del 1978. La dominazione spagnola è durata per molto tempo, insomma durante tutto questo periodo Castro Reale è stata soggetta, come tutto il resto della Sicilia, alla Spagna. Del resto sono ancora numerosissime le lapidi, sparpagliate un po' in vari punti del paese, che ricordano sempre, hanno l'intestazione a Filippo III, Filippo IV, Sicilia e Tspaniaro, un murregge potentissimo, e ricordano evidentemente dei manufatti architettonici, che venivano segnati proprio con queste lapidi, oppure ricordano dei privilegi, come la lapide che c'è nella piazza delle Aquile, che ricorda appunto dei privilegi concessi a Castro Reale, fra cui lo scalo alla Marina. In pratica la divisione in quartiere prende nome dalle chiese importanti che c'erano disseminate su tutto il tessuto urbano. Il quartiere di San Pietro è sotto la chiesa madre, e prendeva nome dalla chiesa di San Pietro, che sorgeva in quella zona, oggi non esiste più. Il quartiere Trinità era proprio sotto il costone, che si vede qua guardando da questo balcone, sopra la chiesa dei Cappuccini, il quartiere di Sant'Agostino, il quartiere sovrastante e sottostante il quartiere Trinità, quasi per tutti gli altri. Il quartiere Mannese, che era a girare, diciamo, sul fronte occidentale della collina, la chiesa dell'Annunziata, che dava il nome con il convento, appunto dei minori conventuali francescani, che dava nome a quella zona, oggi esiste ancora la zona, però della chiesa non c'è più niente, neppure i ruderi sono scomparso tutto. Il comune di Castorreale era molto esteso, ci fu un periodo in cui comprendeva forse anche Mazzarrà, quelli erano terre feudali e ad un certo punto riuscirono a liberarsi dal predominio della città demaniale, mentre i rodimilici rimasero all'interno del territorio comunale e hanno ottenuto la loro autonomia in epoca, diciamo, negli anni 50. Lo stesso vale per Barcellona, ecco, anche Barcellona faceva parte del comune di Castorreale e fu la prima a scrollarsi, diciamo, questo gioco, ottenendo l'autonomia nel 1815. Probabilmente la presenza ebraica a Castorreale risale ai tempi della fondazione del castello, perché naturalmente quando fu fondato il castello Federico II lo diede ad abitare a chi volesse, diciamo, mettersi sotto la protezione della difesa del castello. E fra i primi probabilmente ad accorrere sul luogo, diciamo, a stabilire la loro residenza fu questa comunità ebraica che guarda caso occupava la posizione migliore, proprio a ridosso del castello c'era questo insediamento ebraico con la sua sinagoga, naturalmente fino al 1492 quando gli ebrei furono cacciati. Molto spesso, ecco, quando si trattava di invasioni, teniamo presente, ecco, che Castorreale era in qualche modo esposta alle invasioni dei turchi che sbarcavano sulla marina e naturalmente tendevano a spingersi nell'entroterra. E quindi in questa occasione succedeva che si nascondeva tutto quello che era possibile che potesse far gola. Quindi anche dentro le campane venivano nascoste argenterie e c'erano sotterrate con la riserva di andarle a riscavare, insomma, a recuperare una volta passato il pericolo. Sono stati resi noti i documenti della fiera, per esempio, della Maddalena che aveva luogo nel piano di Crizzina alle falde della collina, proprio nel rione, che si chiama Crizzina anche oggi e che sarebbe il luogo originario di Castorreale. Crizzina, quella che oggi è la chiesa del Carmine, era una chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena, ecco perché si parla di fiera della Maddalena e quindi questa, diciamo, la tradizione per quanto riguarda la fiera. Per quanto riguarda la Candelora documenti purtroppo non ce ne sono. Probabilmente la chiesa della Candelora doveva fungere da cappella del castello nel momento in cui il castello era nella sua piena efficienza. Dovrebbe essere antico anche il culto, diciamo, della Candelora. la testimonianza più evidente sono delle tavolette che una volta erano incastrate negli intercolunni di quest'altare maggiore della chiesa della Candelora che sono delle tavolette del Trecento ritagliate appunto da un complesso, da un politico probabilmente e inserite lì come elementi decorativi nell'altare barocco utilizzati appunto con questo scopo.